Buongiorno a tutti, come molti di voi forse già sapranno, più di due anni fa ormai, il primo aprile 2017, è entrata in vigore una legge per certi aspetti epocale, la legge 24 2017, contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria. Parlo di una legge epocale perché in realtà è la prima volta che il legislatore, fatta eccezione per la legge Vanduzzi del 2012, che però si era caratterizzata come intervento limitato e molto settoriale, mette le mani, per così dire, in un tema molto delicato che è quello della responsabilità professionale sanitaria. La cosiddetta legge Gelli Bianco o legge 24 2017 contiene infatti una serie di previsioni importanti che vanno a disciplinare sia il tema della responsabilità professionale, distinguendo fra responsabilità della struttura da un lato e responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie dall'altro, ma va altresì a disciplinare tutta un'altra serie di fatti specie, fra le quali una di quelle più rilevanti è quella legata ai profili assicurativi. In realtà non è la prima volta che il legislatore interviene sul tema dell'assicurazione in ambito sanitario. Anche la legge Gelli Bianco di fatto ribadisce la necessaria sussistenza di un obbligo assicurativo in capo a tutte le figure che ruotano nel mondo della sanità e dico ribadisce perché in realtà questo obbligo sussisteva già dal 2011, ma come spesso avviene nel nostro ordinamento la legge demanda a provvedimenti attuativi successivi il compito di definire e dettare la disciplina di dettaglio. Questo era già successo nel 2011 senza che questa disciplina di dettaglio fosse mai arrivata e per certi aspetti è successo ancora fino a oggi con la legge Gelli Bianco, dove infatti accanto all'obbligo assicurativo che viene però semplicemente definito in quanto tale, si demandava ancora una volta all'adozione di una disciplina di dettaglio che avrebbe dovuto essere adottata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge e che ad oggi non è ancora arrivata. La verità però è che questa estate è stata licenziata una bozza di decreto attuativo il cui compito è proprio quello di andare a colmare quelle lacune che ci sono in ambito assicurativo nel mondo della sanità, dettando la disciplina di dettaglio e dicendoci quindi quali caratteristiche debbono possedere le polizze assicurative in ambito sanitario, sia per le strutture sia per i professionisti e ciò sia sotto il profilo dei massimali, sia sotto il profilo delle franchigie, sia sotto i profili dell'efficacia temporale intesa come retroattività e oltraattività. I temi da approfondire sono tanti, serve fare un po' di chiarezza in un settore che come dicevamo è stato oggetto di una disciplina alluvionale non sempre chiarissima. L'obiettivo del corso che faremo qui presso lo studio legale Stefanelli il 4 novembre prossimo è proprio quello di fare il punto della situazione per cercare di capire quali sono i profili assicurativi legati all'esercizio dell'attività sanitaria e quali le più rilevanti novità alla luce dei più recenti interventi normativi e ciò anche se di fatto, e questo occorre l'obbligo precisarlo, quello di cui parleremo è ad oggi soltanto uno schema di decreto attuativo, non è ancora un provvedimento in vigore il che non significa tuttavia che non fornisca alcuni utili spunti per orientare una riflessione condivisa.